trovo veramente inutile andare alle elezioni che senso ha fare delle elezioni quando possiamo chiedere l'annessione agli stati uniti annessione come 51esimo stato degli stati uniti che senso andare alle elezioni sprecare tutti questi soldi quando possiamo chiedere l'annessione agli stati uniti diventiamo il 51esimo stato accontentiamo i federali accontentiamo gli atlantisti in fondo non siamo già da sempre dentro non siamo già sempre stati uniti e questi strumenti questi su cui sempre siamo che altro sono facebook youtube se non altro che gli stati uniti e stiamo uniti come sempre lo siamo stati semplicemente chiediamo anche così non in modo complesso l'annessione agli stati uniti basterà che aggiungono una bandiera per il nostro stato vogliamo l'annessione come 51esimo stato agli stati uniti certo questi strumenti su cui comunichiamo altro non sono che un ulteriore tra stato nient'altro che quel che sempre siamo stati vogliamo essere nient'altro da sempre siamo stati uniti e e e e e e e Grazie a tutti.